Abbiamo un'attenzione particolare a quello che è il regolamento del Consiglio Comunale affinché si possa procedere con serenità nell'approvazione dei punti che vengono trattati nel rispetto di quello che dice appunto il nostro regolamento vigente. In questo caso il regolamento evidenzia come devono essere convocate le sedute nei termini e nei tempi stabiliti dal regolamento. In questo caso parliamo dell'articolo 42 del regolamento che dice che le sedute straordinarie vanno convocate almeno tre giorni prima rispetto alla data della riunione. In questo caso la convocazione per il Consiglio di giorno 12 è stata protocollata e notificata ai consiglieri in data 9 aprile. Quindi fuori tempo, peraltro in seduta straordinaria senza rilevare l'urgenza della seduta. Pertanto tutti i punti trattati eventualmente ed approvati in quella data sarebbero stati passibili di nullità, quindi inficiati di nullità. Noi chiediamo solamente un'attenzione, lo abbiamo chiesto più volte. Si può dire che in ogni Consiglio Comunale abbiamo avuto modo di rilevare una certa superficialità che non possiamo accettare più che altro perché il lavoro che si svolge all'interno del Consiglio Comunale, il lavoro che si svolge all'interno del Comune e quindi nell'interesse dell'intera cittadinanza rischia poi di essere vanificato perché gli atti devono essere validi per poter essere volti all'interesse pubblico. In questo caso i punti trattati in questo Consiglio potevano essere inficiati di nullità. Peraltro si trattava di punti delicatissimi ed importantissimi, tra i quali per esempio una richiesta di convocazione inviata dal nostro gruppo molti mesi fa per trattare il delicatissimo punto riguardante l'autonomia dell'Istituto Alessandro Manzoni. Un punto che noi abbiamo richiesto tanto tempo fa e che giunge in Consiglio solamente il 28 marzo, Consiglio rinviato a questa data ma con una convocazione per nulla regolamentata. Pertanto non possiamo consentire superficialità, non possiamo consentire che si giunga in Consiglio Comunale solamente il 12 aprile, primo consiglio dell'anno, peraltro con queste inesattezze delicatissime che vanno dalla assoluta fuori irregolarità della convocazione e nullità degli atti eventualmente approvati. Noi nello spirito di collaborazione abbiamo inviato la nota per dire di procedere ad una nuova convocazione fatta in maniera regolare affinché il lavoro svolto possa avere senso. La seduta, come ho detto in Consiglio Comunale, per quanto mi riguarda era perfettamente regolare. D'altra parte questa proviene da un rinvio del Consiglio Comunale del 28 marzo, anzi mi ricordo che la data è stata concordata con il gruppo di minoranza e si è tenuto conto anche delle loro disponibilità. Per cui il fatto di riconvocare ai presenti della seduta del 28 è stato un eccesso di scrupolo perché tecnicamente si poteva intendere convocata già con il rinvio del 28, tant'è vero che noi abbiamo mantenuto lo stesso ordine del giorno, per quanto riguarda un ordine aggiuntivo l'abbiamo aggiunto dopo con successivo ordine del giorno che comunque era in linea con il regolamento in quanto un ordine del giorno aggiuntivo va comunicato 24 ore prima. Quindi questo al di là della validità o meno non significa che pur considerando pretestuosa la nota della minoranza si ritiene che il dialogo nell'interesse paese vada sempre tenuto, la collaborazione va cercata fino all'inverosimile e questa è la posizione un po' del Consiglio e dell'amministrazione di tutti noi. Quindi noi continuiamo su questa strada. Ho preso atto della nota fatta per venire dal gruppo di minoranza. Non la condividiamo perché questo Consiglio Comunale veniva da un rin mio, quindi i consiglieri erano perfettamente a conoscenza di quello che si doveva trattare e di quali erano i punti all'ordine del giorno. Hanno sfruttato forse un cavillo che è presente nel regolamento per poter prendere tempo e rinviare gli argomenti secondo me a danno della cittadinanza. Noi siamo qui per cercare di amministrare, di portare avanti le istanze per la gente e per la città. Pur non di meno siamo aperti anche con quelle che sono le esigenze della minoranza. Per questo abbiamo deciso di rinviare, per coinvolgerli e cercare soluzioni assieme. Questa è la nostra posizione. Solo per questo abbiamo rinviato l'odierno Consiglio Comunale, anche perché non c'erano argomenti di particolare urgenza.